Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni, ovvero non costano nulla, ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare? Io vi benedico, è la Santa Vergine che protegga. Laudentur Iesus et Maria, carissimi amici, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giuda, giunto alla ventiquattresima puntata. Questa sera vedremo uno chissà quanti ce ne saranno dei molti momenti di sterile ripensamento, chiamiamolo così, di Giuda. Quindi momenti in cui sembra capire che è tanto cattivo eccetera eccetera, quindi fa un po' di pianti del coccodrillo, di vario genere, a volte anche promuoventi, a volte sembra anche che ci sia qualche speranza, ma poi cerchiamo di individuare la radice che peraltro ci rendi che era il nostro Signore del suo mancato cambiamento. Questo va un pochino in tutte le realtà della nostra vita, no? Sappiamo che c'è un'espressione popolare, no? Le cosiddette lacrime del coccodrillo che generalmente non servono assolutamente a nulla, quindi non sono risolutive. Le lacrime sono una cosa molto buona quando sono piante di santa ragione, un po' come la sofferenza, no? Non è che se uno soffre tanto, dice, ma se quello prima di morire ha sofferto tanto, quindi ha espiato i peccati. Dipende, perché bisogna vedere come ha sofferto, perché si ha sofferto imbestialendosi, arrabbiandosi in continuazione, bestemmiando, non è che ha spiegato i peccati. Leggevo proprio ieri sera, perché sto curando, sto ripetendo le bozze, la prima bozza di un libro che sto pubblicando, quindi quando si fanno questi voli di revisione magari manca una nota o qualcosa del genere non va a riprendere, e mi sono imbattuto in un passaggio molto costruttivo di Sant'Ommaso sulla soddisfazione sacramentale. Questo è a modo introduzione, è così. E quando parlava appunto di soddisfazione sacramentale, che sarebbe la penitenza che c'è stata in confessione, si fa a un certo punto una domanda su una questione, dice, ma le sofferenze che Dio ci manda nella vita sono penitenze, quindi o no? Lui ci dipende. Perché se la persona le accetta e si rassegna, certo che va in ascolto dei nostri peccati, ma se la persona si ribella, parole sue, posso pure andare a ritrovare la questione e citarle testamente, valgono solo come vendetta. Vendetta nel senso di retribuzione, quindi punizione per i peccati commessi. Se uno le accetta e le trasforma in croce, valgono come espiazione e come medicina. Se uno si ribella, te le tieni e te le prendi come anticipo del resto che passerai all'inferno. Perché faccio questo discorso? Perché quando uno legge questi episodi dei ravvedimenti di Giuda, non un ravvedimenti, dei momenti in cui, cioè dinanzi a certe cose, come fai a non riconoscere che qualche cosa la dovessi sistemare? Poi bisogna sistemarle, bene. Allora, vedremo che Giuda, più avanti, non vorrei s'anticipare, accuserà Gesù? Si colpa tua se io non mi sono avveduto, perché tu non mi hai proibito di fare questo, tu non mi hai tolto questa cosa, cioè lo dico in premessa, così poi lo andremo verificando. Lui voleva, guardate che Dio mi trattenga dal fare nomi e cognomi, che ci sono realtà ecclesiali oggi che questa cosa la insegnano proprio come se fosse un dogma di fede. Cioè quella cosa la fa Gesù, la fa lui, tu non devi fare nulla, la fa lui senza di te. Basta che tu glielo chiedi con fede e hai fatto tutto. Qualcuno facesse una telefonata all'inferno a Giuda e Scariota e poi verifichi se questa cosa funziona, perché questo è esattamente quello che pensi. Io prego, guarda, ti manifesto questo problema e vedremo come Gesù sempre stimola Gesù, sempre stimola Giuda a fare dei passi, a fare degli atti di volontà seri, oppure a formalizzare un po' meglio le richieste di aiuto. Ma Giuda non lo fa, non lo fa mai. E se non fai questo non ti converti, le cose non cambiano. E tante volte quando parlo con le persone dicono, che cosa posso fare? Cosa puoi fare? Impara a conoscere la tua volontà, perché quello puoi fare. Le persone dicono sempre, ah io a questa cosa non ci riesco. Guardate che non ci riesco non esiste proprio. Non esiste. Non la vuoi veramente. O pur volendola non usi in maniera adeguata i mezzi necessari ad ottenere il fine. Punto. con una volontà forte d'acciaio può addirittura succedere l'imponderabile. Io ho sentito di casi, non li ho verificati, ma ho sentito parlarne, addirittura di tossicodipendenti che si sono usciti dalla droga, che è una cosa ordinariamente impossibile. Perché se vai sotto cocaina o eroina, quanto ne so, non sono un esperto, cioè c'è bisogno anche, come dire, passi per il metadone, cioè l'organismo non riesce a liberarsi de botto di questa cosa qui. A meno che non ci sia una volontà super, perché su quella volontà super, se è veramente super, io qui parlo da teologo, non da tecnico, da chimico, non le so queste cose qui, ma ritengo possibile, che su una volontà d'acciaio che si fermamente risolve sforzandosi per come può ammetterci un taglio, può certamente scendere una grazia in quel caso straordinaria che consente di uscire da quella cosa anche bypassando le procedure ordinarie che si devono affrontare per uscire da questa situazione. A mio avviso questo può succedere, anche se ordinariamente la scienza potrebbe dire stai calmo giovanotto che non funziona così. Certo, ordinariamente però, ci vuole una grazia straordinaria, ma quella grazia straordinaria può accadere su una volontà veramente risoluta? A mio modesto avviso sì. Ma se non c'è la volontà risoluta o agli ammetadoni, io purtroppo conosco gente che so 30 anni che gira per certe ammetadoni e ancora non si disintossica, purtroppo. Arrivata a venerabilità e vite buttate, perché certe ammetadoni, se tu non c'è la volontà, comunità, cose, impici, che ne so, i vari muccioli, San Patrignano, come si chiama quell'altro, Don Pierino Gelmini che insomma ha fatto, quell'altra che ha fondato quell'altra, come si chiama, lo suolo di... come si chiama quella lì che ha fatto le cose, la comunità cenacola a meggiugore che ha salvato un sacco di tossici dalla strada, tu puoi andare dove pare. Quelli sono molti strumenti che ti possono aiutare, ma se non ci metti la tua buona volontà, tu da lì non esci. E questo vale per tutte le cose della vita, tutte, tutte. Cioè una corretta formazione e anche predicazione, questa cosa la deve ribadire fino a quando non esce dalle orecchie e dal naso, perché notate che questo non lo fa quasi nessuno. E questo noi dobbiamo farlo, dobbiamo. E non può farlo nessuno al posto tuo, non possiamo delegarlo, non possiamo nemmeno nasconderci dietro le vere o presunte obbedienze a chiunque sia, padri spirituali, confessori, autorità di vario genere. L'obbedienza, ordinariamente, quando ricorrono le circostanze, le condizioni, va certamente praticata. Se uno si sceglie un direttore spirituale, è chiaro che deve avere un atteggiamento di docilità nei confronti, se no è inutile che ce l'ha, oppure se non si trova bene cambia, perché nessuno si è sposato dal direttore spirituale. Questo mettiamolo subito in chiaro. Quindi non ci sono matrimoni e vincoli di indissolubilità. Quindi se ci sono delle gravi motivazioni, cambia. Però anche lì, capite no? Faccio subito un esempio. Se un direttore spirituale dice, padre voglio fare penitenza. Bene, parliamone un po'. Che vuoi fare? Vorrei fare questo, 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 questo e quest'altro. Senti un attimo, queste cose, questo, questo e questo mi sembrano adatte, però magari regolano in questo modo. Quest'altro forse al momento non mi sembra il caso. Questo un padre spirituale lo può dire. E, ripeto, se uno l'ha scelto è bene che si uniformi a questa indicazione. ma se quello dice, no, penitenza non si deve fare, perché l'ha già fatto il nostro Signore per te, quindi levate queste cose dalla testa. Allora, bisogna obbedire? Quando Gesù, l'esordio del Vangelo di Matteo, di Marco, convertitevi e fate penitenza. Giusto? Quindi, non è che uno obbedisce. Ah, ma il padre spirituale mi ha detto di non fare penitenza, quindi non faccio più nel digiuno e rinunce di nessun tipo, perché mi ha detto il padre spirituale. E quindi mi ha detto il padre spirituale, quindi devo obbedire. Spero di essere sempre chiaro, eh, su queste cose qui. Quindi la formazione è sempre molto molto importante, eh. E soprattutto imparare a tenere sempre, per quanto possibile, sintonizzati e ben funzionanti gli atomi del cervello preposti a ragionamento, che se non va terrato si chiamano neuroni. Ok, detto questo, fatte queste premesse, cominciamo a vedere il capitolo di oggi. Riconosce di essere malvagio e vuole migliorarsi. Il quarto giorno all'acqua speciosa arriva Manna e, oh, questo è un grande, questo qui, un erodiano che è anche fratello di latte di Erode Antipa. Anche questo è un personaggio, ecco, mi tocca fare un'altra parentesi, bellissimo. Il fratello di latte di Erode Antipa. Un uomo veramente, un bellissimo personaggio, citato anche negli Atti degli Apostoli, è Manna e Ann. Andate a leggere gli Atti degli Apostoli, è citato tra i, non mi ricordo se tra i discepoli, addirittura tra i profeti della prima comunità cristiana, Manna e Ann. Quindi non è uno che è diventato discepolo di Gesù, piano piano, pur rimanendo alla corte di Erode, perché lui stava alla corte di Erode, lavorava alla corte di Erode, no? Capite? Due fratelli germani. Uno diventa Erode Antipa, cioè un essere immondo, sicuramente sprofondato all'inferno, e l'altro diventa discepolo del Signore. Vabbè, i discepoli sono tutti in subbuglio, sembrano un alveare stuzzicato tanto sono agitati, parlano, sbirciano fuori, guardano in tutti i sensi. Gesù non c'è, infine decidono su quanto li agita e Pietro ordina Giovanni, vai a cercare il maestro, è nel bosco sul fiume, digli che venga subito o dica quel che si deve fare. Giovanni va via di galoppo. L'iscariota dice, io non capisco perché tanta agitazione e tanta scortesia. Io sarei andato e l'ho raccolto con tutti gli onori. È un onore il suo per noi. Dunque, non so niente io. Lui sarà diverso dal suo parente di latte, ma chi sta con le iene ne prende odore e istinto. Del resto, tu vorresti via quella donna, però bada a te. Il maestro non vuole, io sono a sua tutela. Se la tocchi, io non sono il maestro, eh? Tanto per tua norma. Chi? E chi è mai? La bella erodia, forse? Ma non fare lo spiritoso. Sei tu che me lo fai fare. Le hai fatto intorno alla guardia reale come ad una regina. Il maestro mi ha detto, bada che non sia disturbata e rispettala. Io lo faccio. Noi sappiamo che si batti i becchi tra Pietro e Giuda, perché Pietro e Giuda proprio non lo sopportavano. Ma chi è? Lo sai? Chiede Tommaso. Io no. Su, dillo, tu lo sai, insistono in vari. Vi giuro che non so nulla. Il maestro certo lo sa, ma io no. Bisogna farglielo chiedere da Giovanni. A lui dice tutto. Perché? Cosa ha di speciale di Giovanni? È un Dio, tuo fratello? No, Giuda. È il più buono di noi. Potete risparmiarvi la fatica, dice Giacomo D'Alfeo. Ieri il mio fratello l'ha vista mentre rientrava dal fiume col pesce che gli aveva dato Andrea e l'ha chiesto a Gesù. Lui ha risposto. Non ha volto. È uno spirito che cerca Dio. Per me non è altro e così voglio sia per tutti. E ha detto quel voglio in una tale maniera che vi consiglio di non insistere. Andrò io da lei, dice Giuda di Cheiot. Provati se sei capace, dice Pietro, rosso come un galletto. Mi fai la spia con Gesù? Lascio quel mestiere a quelli del Tempio, risponde Pietro. Noi del lago il pane lo guadagniamo con il lavoro e non con la delazione. Non avere mai paura di una spiata da Simone di Giuda, ma non mi stuzzicare e non permettermi di disubitire al maestro perché ci sono io. E chi sei tu? Un povero uomo come me? Sì, signore. Anzi, più povero, più ignorante e più rozzo di te. Lo so e non me ne accoro. Mi accorrerai se fossi pari a te nel cuore, ma il maestro mi ha dato questo incarico e lo faccio. Pari a me nel cuore? E che c'è nel mio cuore da farti schifo? Parla, accusa, offendi. Ma insomma, scatta lo zelote con lui Bartolomeo. Ma insomma, smetti la Giuda. rispetta i capelli di Pietro. Tenete presente che Giuda era un ragazzino. Da quello che si capisce, 20-25 anni massimo. Pietro, una cinquantina sicuri. Forse anche qualcosa in più. Non troppi però di più, perché è morto nel 67, dopo Cristo. Quindi non troppi più di... Sarà morto in ottantino, 85 anni. Non troppi di più. Rispetto a tutti, ma voglio sapere che c'è in me. Subito servito, lasciatemi parlare. Sempre Pietro, eh. Superbia c'è. Tanta da empire questa cucina. C'è falsità e c'è lussuria. A me è falso. Si interpongono tutti e Giuda deve tacere. Simone, Simone lo zelota, pacato, dice a Pietro Scusa, amico, se ti dico una cosa. Lui ha dei difetti. Ma anche tu ne hai alcuni. E uno è non compatire i giovani. Perché non tieni conto dell'età, della nascita, di tante cose? Vedi, tu agisci per amore verso Gesù. Ma non ti accorgi che queste dispute lo stancano? A lui, non lo dico, e accenna Giuda, ma a te, maturo e onesto tanto, faccio questa preghiera. Egli ha tante pene per i nemici. Ma dargliene noi pure. Ha tanta guerra intorno. Ma perché crearne anche nel suo nido? Ecco, questo è uno spaccato di Simone lo zelota. Uno degli apostoli non molto conosciuti, ma che nell'opera viene ampiamente rivelato. Per esempio, quasi nessuno sa che durante la passione, tutti sanno di Giovanni, ma anche Simone lo zelota. diciamo, Simone lo zelota si è tenuto in disparte per ordini dati da Gesù, a lui e a Lazzaro. Non è scappato come tutti quanti gli altri. Si è già capito. Molto anziano, brutto uomo, ex lebroso e non solo, da un passato non certo entusiasmante, ma una conversione proprio bella. Un uomo saggio, un uomo, si vede da qui, no? Guardate anche la delicatezza, no? Sta correggendo, Pietro, ma lo sta correggendo in una maniera tale da fargli capire una cosa senza fargli troppo male e senza neanche, come dire, umiliarlo o mancargli di rispetto. Non è facile fare questo, eh. Fatto. Perché si può stare zitti, quindi non dire niente e questo non va bene. Oppure si può dire male, dire troppo, dire offendendo. Difficilissimo fare bene la correzione fraterna. Bisogna farla, ma non è facile farla bene. Proseguo la lettura. È vero, Gesù è molto triste e anche smagrito, dice Giuda Taddeo. La notte lo sento che si volta, si gira sul suo lettuccio e sospira. Sere fa mi sono alzato e ho visto che piangeva pregando. Gli ho detto che hai e lui mi ha abbracciato e mi ha detto se possono sentire queste cose. Voglimi bene, come è faticoso essere il Redentore. Non si possono sentire queste cose, eh. Anche io l'ho trovato col segno del pianto nel bosco del fiume, dice Filippo. E alla mia occhiata interrogativa, egli ha risposto, sentite, eh. Sai cos'è che fa diverso il cielo dalla terra? Dopo la diversità della non presenza visibile di Dio? è la mancanza di amore fra gli uomini. Mi strangola come un capestro. Sono venuto qui a spargere seme agli uccellini per essere amato da esseri che si amano. Non si possono sentire queste cose, eh. Giuda Iscariota deve essere un poco squilibrato, nota Maria Valtorta. Si getta in terra e piange come un ragazzo. Entra proprio in quel mentre Gesù con Giovanni. Ma che avviene? Questo pianto? Colpa mia, maestro. Ho sbagliato. Ho rimproverato Giuda troppo duramente. Dice Franco Pietro. No! Io, io! Il colpevole sono io. Io sono. Io ti do dolore. Io non sono buono. Io disturbo. Metto malumore. Disobbidisco. Sono a ragione Pietro. Ma aiutatemi dunque ad essere buono. Perché qui, io ho una cosa, qui nel cuore, che mi fa fare cose che non vorrei fare. È più forte di me e do dolore a te, a te maestro, al quale vorrei dare solo gioia. Credilo, non è falsità. Ma sì, Giuda, non è dubito. Sta parlando Gesù, eh, risposta. Tu sei venuto a me con piena sincerità di cuore, con vero slancio, ma sei giovane. Nessuno, neppure te stesso, neppure tu stesso ti conosce come io ti conosco. Su, alzati e vieni qui. Poi parleremo noi due da soli. Intanto parliamo di quello per cui mi avete chiamato. Che male c'è, se anche manna e ne è venuto? Non può uno collaterale d'Erode? Aversete del Dio vero? Temete per me? Ma no. Abbiate fede nella mia parola. Quell'uomo non viene che per onesto fine. Perché non si è fatto conoscere allora, chiedono i discepoli. Appunto perché viene come anima, non come fratello di latte e di Erode. Si è avvolto nel silenzio perché pensa che davanti alla parola di Dio nulla è la parentela con un re. Noi rispetteremo il suo silenzio. Ma se lo mandasse lui, invece, insistono gli apostoli, chi Erode, no, non abbiate paura. E chi lo manda allora? Come sa di te? Ma per lo stesso Giovanni, mio cugino, credete che in carcere non mi avrà predicato? Ma per Cusa, ma per la voce della folla, ma per lo stesso odio dei farisei, anche le fronde e l'aria parlano di me ormai. Il sasso è gettato nell'acqua immobile, il bastone ha percosso il bronzo. Le onde vanno sempre più vaste, portando all'acqua lontana la rivelazione e il suono lo confida agli spazi. La terra ha imparato a dire Gesù e mai più tacerà. Andate e siate cortesi con lui come con chiunque. Andate, io resto con Giuda. i discepoli vanno. Gesù guarda Giuda ancora lacrimoso e chiede Ebbene non è nulla da dirmi tutto io so di te. Sentite bene cosa dice. Ma voglio saperlo da te. Perché questo pianto e soprattutto perché questo squilibrio che ti tiene sempre così malcontento? Invito a riflettere. Qui c'è una frase simile a quella che Gesù disse a ben altra persona rispetto a Giuda Iscariota. L'ho ripetuto tante volte ma continuiamo a ripeterlo che tanto male non fa. Quando Gesù disse a Santa Faustina che non gli aveva dato ancora tutto di se stessa l'ho raccontato un sacco di volte probabilmente chi mi conosce c'è la nausea di questa storia qui però qui ci sta bene. Insomma la faccio breve perché stavo la suora comincia che cosa non ho dato e cosa non ho dato brega a Gesù due o tre volte non glielo dice insomma alla fine dice insomma si può sapere se ha questa disperata perché lei mi aveva tanto Gesù è impossibile che io gli ho dato tutto la giovinezza la cosa l'obbedienza la vita religiosa Gesù le dice tu non mi hai dato le tue miserie e questa risponde che significa tu non mi hai dato le tue miserie tu mi devi dare le tue miserie tu mi devi parlare delle cose che ti preoccupano delle tue imperfezioni delle tue inadeguatezze devi chiedermi aiuto specificandomi tutte di queste cose qui e lei risponde dice signora che faccio ma tu queste cose le sai che cosa ti voglio che cosa dovrei dirti perché devo dirti queste cose e Gesù gli risponde certo che lo so anzi è in questo contesto che gli disse quella frase se tu conoscessi dal profondo l'abisso della tua miseria tu moriresti di dolore questo vale se valeva per Santa Faustina figuriamoci per noi poveri comuni mortali no? ma se tu non me ne parli io non posso intervenire tu me ne devi parlare bene come se io non sapessi niente chiamandole per nome e cognome e rivolgendo di a me con Giuda Gesù questo lo potremmo fare sempre lo stimola a parlare perché quello è il primo step guardate che molti molti di quelli che dicono basta che io lo chiedo al Signore che poi interviene lui in realtà non chiedono proprio niente al Signore perché anche cioè qualora fosse elevato al Signore proprio un grido di quello dei salmi capito? cioè un grido proprio accorato mosso da una volontà sincera quanto meno di cambiare anche se non sufficientemente sopportato come dovrebbe ordinariamente essere da un adeguato supporto una situazione non potrebbe rimanere a guardare inerte almeno qualche grazia qualche stimolo ulteriore pezzo che ce lo darebbe torno al testo e vediamo cosa risponde a Giuda oh sì maestro lo hai detto io sono di natura geloso tu lo sai certo e soffro a vedere a vedere tante cose questo mi rende inquieto e ingiusto divento cattivo mentre non lo vorrei no e non piangere di nuovo di che sei geloso abituati a parlare con la tua vera anima interessante tu parli molto anche troppo ma con che con l'istinto e con la mente segui tutto un faticoso e continuo lavoro per dire ciò che vuoi dire parlo di te del tuo io perché per quello che devi dire degli altri e degli altri non ti poni redine e confine ugualmente non poni redine e confine alla tua carne essa è il tuo cavallo pazzo sembri una origa al quale l'intendente delle corsi abbia dato due cavalli pazzi l'uno è il senso l'altro vuoi dire qual è vuoi dire qual è l'altro sì è l'errore che non vuoi domare tu auriga capace ma imprudente ti fidi della tua capacità e credi che sia sufficiente vuoi giungere primo non perdi tempo a mutare almeno un cavallo e alzi e anzi li aizzi e sferzi vuoi essere il vincitore vuoi l'applauso non sai che ogni vittoria è certa quando è conquistata con costante paziente prudente lavoro parla con la tua anima è da lì che voglio venga la tua confessione o devo dirti io quello che è dentro e adesso guardate trovo che anche tu non sei giusto e non sei fermo e ne soffro qui già stiamo cambiando registro no perché mi accusi in che ho mancato gli occhi tuoi quando io volevo portarti dai miei amici tu non hai voluto dicendo preferisco stare fra gli umili poi Simone e Lazzaro ti hanno detto che era bene mettersi sotto la protezione di un potente e tu hai accettato tu dai preferenza a Pietro a Simone a Giovanni tu che altro null'altro Gesù nuvole risponde Gesù vescica nella spuma dell'onda mi fai pena perché sei un miserabile che ti torturi potendo gioire puoi dire che è lussuoso questo luogo puoi dire che non ci fu una grande ragione che mi spinse ad accettarlo se sia non fosse meno matrigna ai suoi profeti sarei qui nascosto come uno che teme la giustizia umana e che si rifugia in un luogo d'asilo no risponde Giuda e allora puoi dire che a te non ha dato missioni come agli altri puoi dire che fui acerbo con te anche quando è mancato tu non fossi sincero le vigne o le vigne che non mi avevano quelle vigne tu non fossi compiacente con chi soffriva e si redimeva tu non fossi rispettoso verso di me e gli altri l'hanno visto eppure una sola voce si è alzata a difesa e sempre la mia gli altri avrebbero diritto di essere gelosi perché se c'è stato uno potetto sei tu Giuda piange avvilito e commosso io vado è l'ora in cui sono di tutti tu resta e medita perdonami maestro non potrò avere pace se non ho il tuo perdono non essere triste per causa mia sono un ragazzo cattivo amo il tormento così con la madre così con te così con la sposa se domani avessi una sposa sarebbe meglio morissi sarebbe meglio che ti ravvedessi risponde Gesù ma sei perdonato addio Gesù esce e accosta l'uscio manca ancora un po' però vorrei fare un attimo si vediamo un attimo una sosta vedete psicologia di questo uomo questo non è un pianto di un pentimento questo è un pianto ed è una sofferenza di disagio di disagio oggettivo perché si rende conto che sta sempre a fare questioni che è lui la causa di un sacco di problemi ma prima non va Gesù cerca di portarlo al cuore di alcune cose per sollecitarlo a fare degli atti di volontà ovviamente il senso come si spezza sapete come si spezza il senso smetti è più forte di te no non è più forte di te non è più forte di te valla a chiedere a San Francesco d'Assisi o a San Benedetto se è più forte di te quelli due santi che non erano mai stati con nessuna tentati dal diavolo che purtroppo i maschietti hanno dei problemi a volte anche senza nessun tipo di provocazione lo chiamano il testosterone non ci capisco niente la chimica quindi ripeto a pappagallo si impazzisce e tu ti ritrovi in fibrillazione pure a San Paolo è successo questa cosa qui vai gliela a chiedere a loro lo sapete che hanno fatto no? non ci riesco si sono buttati dentro dentro un uovo di spigli tutte e due una subiago e una la porziuncola e ci sono ancora subiago e la porziuncola i roveti diventati roseti perché si impazzisce quel pezzo del decoso che mettilo dentro le spine e vedrai come si calma si calma e San Francesco ha concesso anche il bis perché è arrivato la stessa cosa quando stava sulla verna d'inverno con la neve in qualche film di San Francesco si vede la scenetta ti ha preso si è tolto pure il saio perché tanto insomma quello grande grande riscaldamento ti si è rotolato in mezzo alla neve ma vedi come ti passano i bollenti spigli ti passa subito tutte cose quindi non esiste è più forte di me non ci riesco ma dove? dove? sei un lussurioso come una scimmia ma se vuoi mettiti i piedi della madonna chiedi la grazia a lei e fai un atto fermo di volontà smetti dall'oggio al domani te lo dico io dall'oggio al domani vuoi essere il primo? butta dentro diciamo un termine la tazza del water si può dire ma mi stavo uscendo un altro termine che era un po' più feriale questa cosa qui tira l'acqua finito mettiti all'ultimo posto e è finito basta chiuso avanti ma lui queste cose non le fa Gesù cerca di portarlo lì e lui comincia a accusare Gesù sul nulla sul nulla perché? aizzato dal diavolo e comincia a far pensare che lui ha le predilezioni di quelli che lui riconosce essere migliori di lui ma in realtà non è vero perché Gesù non agisce per spirito di predilezione ma agisce sempre in nome di giustizia e verità e lo porta a dire si tu sei geloso di loro guarda quante cose hai fatto chi è che ti ha sempre difeso io quindi io faccio le preferenze ah se proprio le faccio casomai dovrebbero essere gelosi di te non tu di loro è chiaro che dinanzi a questo perché Giuda stupido non era capisce piange ma se sono sempre la chiede perdono mi sono ragazzo faccio così con te sono cattivo lo faccio anche con mia madre lo farei anche con la sposa sarebbe meglio morire a niente serve questa roba a niente proseguiamo così arriviamo al termine del capitolo se Dio vuole va bene Gesù esce accosta l'uscio fuori è Pietro vieni maestro è già tardi c'è tanta gente fra poco scende la sera e tu neppure hai mangiato quel ragazzo è causa di tutto Gesù risponde quel ragazzo è virgolettato ragazzo ha bisogno di voi tutti per non essere più causa di queste cose vedi di ricordartelo Pietro se fosse tuo figlio lo compatiresti? risposta di Pietro sì e no lo compatirei ma gli insegnerei anche qualcosa anche se è già uomo come un monello cattivo già forse mio figlio non sarebbe così basta dice Gesù sì basta signore mio ecco mannaen è quello con quel mantello nero tanto e rosso scuro quasi nero tanto e rosso scuro mi ha dato questo per i poveri e mi ha detto se può restare a dormire che hai risposto? la verità abbiamo letto abbiamo letti solo per noi vai al paese Gesù non dice nulla però lascia inazzo Pietro e va da Giovanni al quale dice qualche cosa poi raggiunge il suo posto e inizia a parlare Gesù vuole il suo discorso sul detto non proferire in vano il mio nome secondo comandamento siamo all'acqua speciosa ricordiamo sempre come siamo detti la volta scorsa sui discorsi di Gesù all'acqua speciosa sui dieci comandamenti all'inizio del giorno seguente egli sta già passeggiando su e giù lungo la sponda del fiume ti disturbo maestro? chiede Giovanni no che vuoi? volevo dirti mi pare che sia una notizia che ti possa dare sollievo e sono venuto subito anche per consegnarmi con te ero a scopare i nostri stanzoni ed è venuto Giuda di Carriott mi ha detto ti aiuto sono rimasto stupito perché fa sempre poco volentieri anche il comandato di queste umili cose ma non ho detto nulla più che questo oh grazie farò più presto è meglio lui si è messo a scopare e abbiamo fatto presto allora ha detto andiamo nel bosco sono sempre i vecchi che portano le degna non sta bene andiamo noi io non so molto fare ma se tu mi insegni e siamo andati e mentre ero lì che legavo con lui le fascine mi ha detto Giovanni ti voglio dire una cosa parla ho detto e pensavo che fosse qualche critica invece ha detto io e te siamo più giovani bisognerebbe stare più uniti vedete che Giovanni aveva 18-20 anni quindi Giuda non aveva molto più di lui anche qui sono due giovanotti opposti proprio tu hai quasi paura di me ed hai ragione perché io non sono buono ma credi non lo faccio apposta delle volte ho il bisogno di essere cattivo forse perché unico come ero mi hanno viziato e vorrei diventare buono i vecchi lo so mi guardano poco bene i cugini di Gesù sono urtati perché sì io ho mancato molto con loro e anche con il loro cugino ma tu sei buono e paziente voglimi bene fa conto che io sia un fratello cattivo sì ma che bisogna amare anche se è cattivo lo dice anche il maestro che bisogna fare così quando mi vedi fare poco bene dimmelo e poi non mi lasciare sempre solo quando vado in paese vieni anche tu mi aiuteranno a fare del male ieri ho sofferto molto Gesù mi ha parlato ed io l'ho guardato nel mio sciocco e rancore non guardavo né me stesso né gli altri ieri ho guardato e ho visto hanno ragione di dire che Gesù è sofferente e io sento che ne ho colpa anch'io non voglio più averlo vieni con me ci verrai mi aiuterai ad essere meno cattivo così ha detto ed io te lo confesso avevo il cuore che mi batteva come quello di un passero preso da un ragazzo batteva di gioia perché ho piacere che lui diventi buono per te ne ho piacere e batteva un poco di paura perché non vorrei diventare come Giuda ma poi mi è venuto in mente quanto mi avevi detto il giorno che prendessi Giuda e ho risposto sì che ti aiuterò ma io devo ubbidire e se ho altri ordini pensavo ora lo dico al maestro e se lui vuole lo faccio se non vuole mi farò dare ordine di non andare lontano dalla casa senti Giovanni dice Gesù io ti lascio andare però mi devi promettere che se senti qualche cosa che ti turba tu me lo vieni a dire mi hai dato tanta gioia Giovanni ecco qua Pietro con il suo pesce vai Giovanni Gesù si volge a Pietro buona pesca non molto pesciolini ma tutto fa c'è Giacomo che brontola perché qualche animale ha rosolafone e si è perso una rete ho detto che lui non doveva mangiare abbia un padimento per la povera bestia ma Giacomo non la intende così ride Pietro ecco ora prima di chiudere che c'è un altro intervento su Giuda vorrei un attimo fermarci su quanto ha detto da Giovanni di Giuda e su Giuda a Gesù e su quanto gli ha risposto Gesù avete sentito il dialogo con Giovanni anche questo dialogo apparentemente buono costruttivo però vedete la testa di Giuda magari forse pensava anche che fosse una buona soluzione lui ogni volta che si allontanava andava a far guai andava anche a donne se mi porto questo che è un angioletto mi trattiene e così non ci vado ma questo non è la soluzione del problema Giovanni che è un angioletto vedete gli angioletti è tutto contento tutto contento diceva questo questo pare che voglia diventare più buono così Gesù sarà contento però sente nel cuore paura perché l'avverte perché lo sa che stare vicino a quello lì che sta ancora messo così significa trovarsi in una marea di situazioni uno l'abbiamo già vista quando avevano due gioielli la ricorderete nelle puntate scorse che giura che Giovanni si è trovato a fare delle cose dell'altro mondo quindi aveva paura che in qualche modo questo si reterasse vedete anche Gesù che evidentemente è commosso da questa bontà dell'apostolo prediletto però gli dice io ti lascio andare quindi ma vieni a riferire qualunque cosa che ti turba perché non si può sacrificare un buono per l'impossibile retenzione di uno che vuole rimanere cattivo non è la soluzione perché quella soluzione funzionerebbe se Giuda avesse deciso di smetterla e di cambiare vita e a maggior tutela mi prendo anche mi metto vicino a uno che è buono e così non mi vengono fino a quando non mi consolido un po' cattive intenzioni questo funzionerebbe ma se non c'è la risoluzione ferma della volontà questo non funziona non funziona siccome Gesù lo sa che questa risoluzione della volontà non c'è allora non smonta Giovanni gli dice anche perché se gli dicesse di no c'è anche un altro motivo poi Giuda ci avrebbe il pretesto per dire ah vedi io ero andato da Giovanni perché lui è tanto buono io lo so che tu sei tu lo ami tanto perché lui è tanto buono gli ho detto stammi un pochino vicino per farmi diventare come te e tu gli erai impedito e Gesù a queste cose ci pensa perché poi vedrete alla fine di tutto sicuramente c'è questo episodio perché è accaduto poco prima della passione quando Giuda gli fa tutta la sua requisitoria che lo accusa di questo Gesù risponde a parola per parola anche prima quando Giuda si è messa ad accusarlo non gli ha risposto ma come ti permetti tu di accusare me che sono un santo e che sono Dio non hanno detto di che cosa mi accusi dimmi dimmi un po' e gli ha risposto non pensiamo mai eh quelli che puntano il dito contro Dio che si chiedono i perché che non devono chiedersi in questa vita cioè non pensiamo mai di poter competere con il domino di Dio perché davanti al domino ci abbiamo sempre torto e che ci abbiamo torto ce lo dimostrerà a suo tempo adesso chi è così sciocco da volersi mettere a fare il gradasso o il giudice del Padre Eterno si accomodi pure poi un bel giorno si metterà la coda tra le gambe non semplicemente umiliato dall'autorità di Dio che non ci mette niente a farlo ma distrutto e atterrato dall'evidenza dei fatti e dei ragionamenti che lo smontano pezzo per pezzo ok questo non dimentichiamolo mai ma Giacomo non lo intende così dire Pietro quello che io dico di uno che è un fratello è quello che voi non sapete fare qui buona pesca parli di Giuda parlo di Giuda egli ne soffre a desideri buoni e tendenze perverse ma dimmi un poco tu esperto peccatore quando io volessi andare in barca sul Giordano e raggiungere il lago di Genezareth come potrei fare? ci riuscirei? eh sarebbe un lavorone ma ci riusciresti con barchette piatte faticoso sai lungo bisognerebbe sempre misurare il fondo avere occhio alle rive alle secche ai boschetti galleggianti alla corrente la vera non serve in questi casi anzi ma vuoi tornare sul lago seguendo il fiume? guarda che controcorrente si fa male bisogna essere in molti se no ecco tu l'hai detto interviene Gesù quando uno è un vizioso per andare al bene deve andare controcorrente e non può da solo uno riuscire Giuda è proprio uno di questi e voi non lo aiutate il meschino va su solo e urta nel fondale sfrega sulle secche si impiglia nei boschetti galleggianti viene preso dai gordi d'altronde se misura il fondo non può contemporaneamente tenere il timone o il remo perché allora perché allora lo si rimprovera se non procede avete i pietà degli estrani e di lui vostro compagno no non è giusto vedi la Giovanni e lui che vanno al paese a prendere pane e verdure e gli ha chiesto in grazia di non andare solo e l'ha chiesto a Giovanni perché non è sciocco e sa come voi vecchi la pensate su di voi e tu lo hai mandato e se si guasta anche Giovanni chi mio fratello perché si guasta chiede Giacomo che giunge con la rete ripescata contro un canneto perché Giuda va con lui da quando da oggi risponde Gesù ed io l'ho permesso ah allora se lo permetti tu sì lo consiglio anzi a tutti lo lasciate troppo solo non siate dei giudici per lui solo non è peggiore di tanti ma è più viziato e fin dall'infanzia sì deve essere così se avesse avuto per padre e madre Zebedeo e Salome così non sarebbe i miei parenti sono buoni ma si ricordano di avere un diritto e un dovere sui figli hai detto giusto oggi parlerò proprio di questo e il suo discorso sarà sul comandamento onora il padre e la madre bene il capitolo è finito e abbiamo finito un po' anche noi Gesù ha detto delle cose importanti sapeva bene ha sempre saputo che Giuda non si sarebbe vedendo però lo vediamo esperire tutti quanti i mezzi possibili immaginabili e anche insegnare l'arte di condurre e di correggere le anime agli altri discepoli una persona che si comporta male deve essere aiutata non deve essere semplicemente giudicata che si comporta male si comporta male appunto e basta quindi non giudicare non vuol dire si comporta bene non si comporta male giudicarla è sbattergli in faccia semplicemente il suo mal comportamento per riproverarlo appunto e basta o addirittura o addirittura per insultarlo o per offenderlo questo si muove a farli tutti più difficile è imbarcarsi nel tentativo di correggere la persona in questo caso anche standogli vicino è chiaro che abbiamo già detto quello non è sotticente però è una cosa che se c'è costituisce un aiuto come il Signore dà gli aiuti attraverso le grazie certo possono essere utilizzati da chi mi riceve così alcuni suoi aiuti sono proprio dati dalle opere e dalla presenza delle persone preposte a questi tipi di incarico questi sono gli apostoli questi qui un ministro un sacerdote deve aiutare per antonomasia la persona a convertirsi fare tutto quello che può perché cioè tu sei mandato a un peccatore se fossi già santo non c'è bisogno di uno che lo aiuta Gesù spiegherà che uno dei motivi per cui ha permesso Giuda è stato anche proprio la formazione del gruppo apostolico cioè avere dentro uno che costituisce veramente un caso difficile per insegnargli la pazienza l'arte di come è faticoso e di quanto costa convertire correggere aggiustare una persona che non sta messo bene poi il fatto che con Giuda questo di essere stato un fallimento è un santo mas direbbe è un accident ecco ma se la cura fallisce perché il malato è remitente pazienza però il medico deve essere capace a somministrare la cura e deve essere capace a farlo bene bene ci fermiamo qui e appuntamento la prossima volta siamo a noi dentro di Esos e Maria uso del suo versissimo sangue su di noi sui peccatori per convertirli sui amici purgatori per alleviarle e consolarle grazie a tutti